Ciao sono Magnus e ritorniamo sempre qui su The Lost Crown abbiamo trovato l'arco che è fondamentale perché obiettivamente c'erano delle parti che ancora non riuscivo a sblocchiare adesso fondamentalmente ci riusciamo perché dobbiamo un'altra volta metterci sulle tracce del principe e continuare in seguimento verso Anahita i nomi sono un po' strani e un po' difficili comunque noi siamo qui a questo punto dovremmo ritornare praticamente qui perché dobbiamo raggiungere la città dell'alta io qui ce lo farei un pensiero perché possiamo sbloccare e prendere c'è la maga questo va vendere e migliorare alcuni oggetti ritorniamo quindi praticamente se vabbè non di qua sicuramente da sopra perché è da lì che ci interessa giù c'era una zona che non avevamo assolutamente visionato e quanti falchetti eh maledetti falchetti vediamo un po' no non è una zona che non abbiamo per niente non riesco a sbloccare quella parte non so chiaramente se c'è qualcosa che hanno sblocchiato il braccio non mi sa come va è però strano sta parola allora parola qui qua non si va ops questa non la vedo eh perdono allora vediamo un attimo se riusciamo a rilfarsi andare qua sopra vabbè non è che cambia molto vabbè ecco sta su è morto? è morto attenzione che siamo un po' in fin di vita ok oh ce ne sta ancora un altro ok mi ha rotto le palle questo però fa il gioco eh ma vabbè sono morto ma vabbè ok è andato di là voglio capire se c'è qualcosa che ci vuole interessare no di qua non c'è niente di qua recuperiamo le frecce quindi niente di qua no là non ho capito che cavolo c'era fino a poi ci ritorneremo ok ce l'ho già ma ok allora un momento ok ok madonna sembrava facile ma a me non era facile ah consumato già tutte le frecce acceso e mo che cazzo dai veramente ah ok siamo ritornati qua un'altra volta noi infatti dobbiamo andare laggiù porca miseria allora un momento quindi qua ci siamo già stati noi dobbiamo ritornare qua sinceramente sto pezzo di sale ve l'ho già fatto vedere quindi se non esce niente di nuovo non ve lo faccio vedere perché pratica ah però questo di qua no no voi questa parte qua non l'avete vista sicuramente quindi è proprio sicuro che ve lo faccio vedere ok porca di quella per questo è complicato per questo è complicato per questo è un attimo che voglio vedere una cosa ok oppo e dai cadi un'altra volta e t'ammazzo è sicuramente una zona nuova questa sì per forza ma ok 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 non è che è stato abbastanza impassibile ho un po' rischiato qua ho un po' rischiato momento che voglio capire una cosa perché qua non è che si capisce bene e non si vede neanche tanto bene ecco ecco un momento perché qua ci potrebbe essere qualcosa aspetta un attimo non c'è niente di qua ok ok e quindi aspetta aspetta fammi caricare un attimo una cosa ok eeeh porca miseria ok ok penso che sono ritornato al punto di prima sì ok momento eh no non siamo andati penso che c'è di qua ma è niente non mi vale eh c'è qua eh no eh no no aspetta là ci sta l'albere alberello allora momento eh e piglia li oh eh dai non ho capito attenzione a ste erbette che non mi piacciono ora qua ci dovrebbe stare l'albero aspetta andiamo verso l'albero ok così almeno ci recuriamo evidentemente non abbiamo ancora le abilità necessarie a quanto pare no ok allora occhio qua aspetta un attimo perché non ho capito no ok 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 siamo riusciti a beccato ho premuto un tasto è sbagliato anche secondo me per un momento di sotto di sopra stessa cosa quindi non ho capito chi è questo lui? vabbè ci troviamo lì nuova abilità sblocchiata un'arma a distanza che torna indietro quando viene lanciata quindi premuto noi per minare composizione con il chakra sembra carina stiamo comunque sempre avanzando dall'altra parte evidentemente è un percorso da fare per forza qua si scende però attenzione non vorrei per forza scendere dai ecco quindi è venuto per minare ah ok oh questo è bello eh abbiamo sblocchiato una nuova cosa città bassa ok no oh Gesù un momento eh perché non ho capito una mazza al momento perché qua non ci siamo già stati no ok aspetta questo me lo becco collezionabile ottenuto ho recuperato un sacco di cose comunque ma tutti questi alberi ok va bene tutto quello che volete voi però sinceramente vi dica vediamo ma non ci stiamo via a giurare in alcune cose non sono difficili ok grande che ho becchiato ok il telefono accetto prezzo sottenuto metallo raro usato metallo di reinforce una tecnica ok vabbè vabbè e non è che questo cavolo di rinforzo ancora non l'abbiamo becchiato vabbè allora io voglio andare un attimo là perché è meglio che ci recuperiamo un po' di energia e andiamo ok 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 è andato ma come fai a becchiato è andato è andato è andato certo non vale che la recuperiamo subito questa energia ma che era una bomba ma che che è successo non so perché sono morto questa ah ce l'ho già ok è andato e penso che la oh 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 qua c'è qualcosa di buono che ho trovato oggetto prezioso aumenta il numero di amuleti in dosi ok che possiamo equipaggiare vabbè tanto ne ho già tutti quanti quindi capirai ok misera raga ok ah gesù cristo raga è una bomba porca miseria mannaccia la miseria occhio allora prima c'era non ho capito che c'era c'era un barile quindi 8 e attenzione allora di là c'è qualcosa non lo so ok di qua ci siamo già stati? sì ok che cos'è questo? ok ok un momento eh di qua ci siamo stati quindi inutile che andiamo come cazzo? e mo? e no aspettate dove vado? passo per scoprire ah ci sono e non ho capito c'è un problema amica ah di qua dove andava penso ma come fai a vettere? ma vaffan allora tutta bassa la siamo morti non ho capito che allora qua in te la dovremmo recuperare e poi penso che a questo punto dovrei poter assolutamente fare un sacco di cose tipo eh infatti quello che farò ciao Sargon allora questa consiglio consiglio da fare ma non la voglio il consiglio perché mi devi dare il consiglio? 30 no per cui si dà eh voglio vedere se sei un astro e andai vediamo che consiglio ci dà secondo me ci fotte eh non c'è un citadel vabbè ci dà consiglio da questo punto la statua ad ovest allora allora la sta sta qua eh sì ok quindi dobbiamo andare di qua vediamo questa che ci può dare allora acquistiamo pozione extra eh sincero wow però non è nido 500 allora aumento il numero massimo di pozioni eh lì l'aumento dell'effetto vabbò questo me lo prendo però 500 mi sembra eccessivo eh devo cercare un po' di eh di giocare un po' di più e poi acquista allora per la cornuta no? nuovo oggetto acquistato vabbè me la prendo dai non fai niente dai adesso non c'è più niente ho speso praticamente tutto però adesso abbiamo due eh cose che ci possiamo curare allora amuleto penso sia questo vuoi equipaggiare allora abbiamo un dobbiamo cinque due tre cinque quindi ce l'ho praticamente tutti sì 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 tutti gli amuleti abbiamo messo vai vai con dios quindi allora praticamente ma che è questa? non si è aperta eh mo che è? cucina quindi pensi che migliorerò l'arma mannaccia non ci abbiamo di cosi come adesso proprio adesso dobbiamo migliorare quest'arma è un'immortal uno che cercano per qualcosa che scopri senza controllo chi ti servei mi chiedi? mi chiedi? mi chiede ma per i mortali io ho servito i mortali da tempo a tempo da tempo a tempo il fenomeno Darius era stato di uno dei miei finesti lavori pochi altri mortali sono valori avevo capito che in Mount Carf i dioi e le godesse cammini avessero tra le umani è stato Vabbè abbiamo capito, dai Siccome si dialoghi sono troppo lunghi Se l'hai capito già, eh Ma va Allora, antichi poteri trovati a pista Allora, possiamo acquistare a 150, giusto giusto Lieve aumento dei danni delle frecce Non posso praticamente aumentare niente Antichi poteri ritrovati Dove sono attaccato a pista Puoi provarli Antichi poteri ritrovati Accetta la nuova missione Vabbè dai, allora Se li troviamo lungo la strada A 450 Allora questo, dai Gliudiamo un po' le frecce, dai A saperlo, non spendevo dall'altra parte Ma sono morto veramente Vabbè dai, allora Vado verso la statua Alla statua Se non mi dicono che mai Dovrebbe stare qua veramente Lì si andava verso la città alta Qua stiamo verso la statua Credo Faccio spio più di qua Ok, già è al massimo Ok Infatti mi ricordavo sta cosa Ok Allora, momento Che vuole questa? Acquista ma Ma tanto posso acquistare niente Non c'ho niente Cioè quindi 26 Manco ti posso accontentare Magari se riesco a beccare qualcosa Riusciamo ad andare avanti Però 50 Dai, 30 Porca miseria Voglio acquistare sta cazzo di madre Ma qua L'ho sbocchiata Sì Ci abbiamo tre frecce Perché c'è un altro amuleto? Ah perché lo devo indussare? Allora vado un po' avanti Riesco a beccare un'altra prova di cosa Torniamo indietro No Ok Non c'è da fare Dai non ci sta nessuno Nentre di me Cioè non posso beccarmi la mappa Perché non c'è nessuno Cioè per 5 cose Nentre di me 45 50 Ci voglio avere la mappa Non c'è nessuno Non c'è nessuno E nessuno Nentre Your life ends here ci sto per la cittadella pensai davvero non fai più bene di merda io non l'ho affatto a sacerdì malissimo malissimo ok 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 Dove vai? Sì proprio non c'è bisogno, non c'era bisogno di fare tutto sto shoot Ok, che cazzo? No, no, no Ma parca troia Allora Ecco vedi quella Abbastanza caldo eh Ok Fammi il danno, fammi il danno Non c'è? Che vai? Nooo, vai andare da gran' Non voglio lo fare questo Ok Aspetta mia a te Lo sto un po' aspettando Un po' timo il suo E dai, sbrossali Occhio Occhio, vabbè Vai Non moriamo come i coglioni Possibilmente Che fai? Occhio Aspetta, aspetta, vedi, è là, è là, è là che ce l'ha E non c'ho più Occhio qua, occhio qua Giochiamo tutto qua Dai Dai Non y'all Smarrete sul monte Allora, se vi dico la verità Ah, mi sono divertito Mi sono veramente tanto divertito 1.350, 100 persone attenuto Aumenta la salute massima Che è quello che ci intrigava più di tutto, sinceramente Ok Allora, quindi vado qua Per forza Ma sti viaggi rapidi non ci stanno Use potenzioni per distorcere lo spazio E spostarti in un'area E spostarti in un'area premendo retti Puoi muoverti avanti e indietro Orizzontale Orizzontale Orizzontalmente Usa poteri di distorcere lo spazio Si può usare Dopo aver subito un colpo Per fermare la caduta Prima di aggiungere il suolo Non ho capito un cazzo Usa poteri di sede Per distorcere lo spazio E spostarti in aria Premi... Ah, ok Ah, ok Ok Ok, va bene Ok, vai Ok Ok Ok, ok Sarà complicato o no cammino? Dici che sono ritornato Da qualche altra parte? Qualc'altro signo del Prince? Niente E ho avuto scurrere il posto Per tre giorni Tre giorni? Artaban Ma Abbiamo arrivato qui Hora 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 Quanto sei simpatico Sì Vabbè Vado un attimo avanti E da qui Penso che ci possiamo Anche Fermare Ci vediamo Se proprio sto capito Vai Vado un attimo avanti Grazie a tutti.